Una situazione paradossale. La definisce così Ugo Tozzi, leader del gruppo omonimo, la situazione della scuola Fiorentino, la cui chiusura per rischio sismico ha suscitato non poche polemiche fra i genitori per via della ridistribuzione dei bambini nei vari plessi del territorio. Noi, afferma Tozzi, siamo al fianco dei genitori di queste decine e decine di alunni che restano in bilico per giorni al fine di avere una soluzione che, come al solito, non sarà definitiva. Per questo motivo chiediamo che l'amministrazione segua una strada chiara e trovi una soluzione definitiva. Il plesso della ex-Inps può essere la soluzione. Sulla vicenda, dopo l'incontro con i genitori, è intervenuta anche la sindaca Cecilia Francese che in conferenza stampa ha chiarito la posizione dell'amministrazione. Siamo partiti dalle Fiorentino perché sono le più antiche e perché così in una valutazione approssimativa pensavamo che quei dati, voglio dire, non ci sarebbero state le regole per garantire l'antisismicità. E quindi sia per i padiglioni che per il Fiorentino sono stati fatti questi studi. relazione che ci ha ribadato. Noi abbiamo presentato il nostro bando, la chiusura del bando, i nostri progetti. Questo visto che qualcuno, il che ex amministratore si è anche preso il merito di aver fatto, i tempi sono quelli. Per cui noi abbiamo presentato il 5 luglio, il termine di scadenza del bando, il nostro studio. Anche perché poi la relazione abbiamo dato mandato a giugno di fare questi studi proprio in funzione di bandi che dovevano uscire perché sentendo le televisioni aspettavamo questa cosa e quindi abbiamo dato mandato al nostro settore finanziario di trovare i fondi, che non è facile, soprattutto in un comune in riequilibrio come il nostro. Abbiamo trovato questi fondi e quindi i risultati hanno dato che staticità, insomma, le nostre strutture non sono a norma per l'antisismicità. Che vuol dire? Chiedevo all'ingegnere che vuol dire staticità zero, no? Vuol dire che se viene un terremoto, mi diceva lui, e correggimi se sbaglio, la scuola deve reggere in toto, neanche l'intonaco deve cadere. Quindi sono regole molto strette che la Corte Costituzionale ha stabilito, probabilmente troppo troppo strette, cioè fatte da un giudice ma non fatte che ad litteram ha ascoltato quelli che sono i criteri tecnici. Quindi qualsiasi evento sismico arriva non deve cadere niente, non si deve spostare l'infisso, non deve cadere la lampadina, non deve cadere l'intono. E quindi base a questi studi noi abbiamo presentato il progetto e il 20 agosto abbiamo avuto la notizia che le scuole fiorentino stanno in graduatoria finanziabile.